Erano anni che il settore chiedeva alla politica di mettere mano al comparto con una riforma. Siete soddisfatti di questa proposta di legge e cosa vi aspettate dalle discussioni parlamentari? Allora, assolutamente sì, siamo molto contenti che per la prima volta la politica abbia dato ascolto alle istanze del settore. Noi ci abbiamo provato a più riprese anche nelle passate legislature, c'erano state parole di circostanza ma mai fatti concreti. Quindi per la prima volta registriamo con molta gioia che c'è un fatto concreto che è una proposta di legge importante che tutela i cittadini, tutela i consumatori, tutela i lavoratori e le lavoratrici e inizia a tutelare le imprese. Quello che ci aspettiamo adesso è che nei passaggi in commissione, trasporti e telecomunicazioni, attività produttive la proposta possa essere ampliata, integrata anche con una serie di misure più rivolte alle imprese. In particolare mi pare che manchi tutto quell'aspetto di fondi legati alla formazione permanente dei lavoratori all'upskilling e al reskilling, fondi per gli ammortizzatori sociali strutturali per il mondo dei call e contact center di cui abbiamo bisogno. Però è l'ottimo nemico del bene, quindi era fondamentale iniziare, è un primo passo importante, quindi applauso a Fratelli d'Italia e alla maggioranza, resteremo ovviamente molto attenti dal percorso parlamentare e siamo sempre disponibili a dare il nostro contributo per il bene del settore, di un settore che dà lavoro a oltre 100.000 lavoratrici e lavoratori che hanno garantito, lo diceva l'onorevole Longi, agli italiani di essere soli ma non isolati durante la pandemia. Ecco, quel valore noi dobbiamo tenerlo sempre presente e continuare a portarlo avanti. Grazie mille.